Vi presentiamo l'asse da stiro Giroboard, un nuovo prodotto rivoluzionario con superficie rotatoria che vi permetterà di stirare tutti i vostri indumenti in maniera rapida, comoda e facile. L'asse da stiro Giroboard incorpora un sistema innovativo di stiraggio a doppia faccia con il quale si otterranno risultati impeccabili in tempo record. Vi piacerebbe stirare una camicia solamente in un minuto? Con Giroboard è possibile! La sua forma ergonomica, leggermente curvata da una parte e totalmente piana dall'altra, si adatta perfettamente a tutte le tipologie di indumenti. Utilizzate Giroboard per lo stiraggio di indumenti grandi, come tende e tovaglie. Le dimensioni dell'asse vi permetteranno di stirare un vestito lungo a due facce con totale facilità. La parte più stretta è perfetta per lo stiraggio di indumenti per bambini, così come di gonne plissettate o con pieghe. Il sistema rivoluzionario di Giroboard dispone di un asse estraibile per stirare comodamente le maniche e i polsi delle camice, mentre serve come supporto per i colletti e i risvolti delle giacche. Con Giroboard otterrà i risultati professionali solamente in un minuto! Inoltre include due ganci di fissaggio nascosti per stirare i pantaloni in maniera rapida e facile. Stirare i pantaloni con le pants è sempre faticoso e costoso, ma con Giroboard saranno sempre perfetti! L'asse da stiro Giroboard è adatta sia per la mano sinistra che per la mano destra e ha otto livelli di altezza regolabili. Stira in piedi oppure seduto comodamente sul divano. Inoltre incorpora un supporto per l'asse con rotazione di 360 gradi che rende impossibile la caduta del ferro e il suo rivestimento è facilmente removibile attraverso la sua cerniera. In posizione verticale si può utilizzare come appendi abiti e le sue ruote a scorrimento bidirezionale permettono un trasporto comodo e protetto dell'asse. Dimenticatevi dei sistemi convenzionali! Giroboard rivoluziona il concetto di stiraggio. È costruito con polietilene ad alta densità, un materiale di prima qualità, resistente ad alte temperature, leggero, solido e stabile. La sua struttura metallica totalmente cromata vanta di certificati di qualità e le sono stati assegnati vari premi di design in tutto il mondo. Il sistema di Giroboard è brevettato a livello mondiale ed è già presente in più di un milione di famiglie in tutto il mondo. Con Giroboard otterrà i risultati professionali solamente in un minuto! Inoltre include due ganci di fissaggio nascosti per stirare i pantaloni in maniera rapida e facile. Con Giroboard stirare diventa facile e divertente! Aiutiamo la tua qualità di vita! Stirare non sarà mai più come prima! Chiama adesso per ricevere informazioni!